Il neo marito è un autista dell'ATM che scherzando ha commentato questa volta per me niente capolinea. Quest'altra coppia, li vedete invece, è salita a bordo di un altro mezzo. Due sposi e 70 invitati nella macchina del tempo. Scene da un perfetto matrimonio ogni 40. Lo hanno voluto così Ombretta e Mauro. Vestiti, macchina, ristorante, musica, bomboniere. Tutti rigorosamente d'epoca. Mauro Taramino e Ombretta Giuliano Maganza sono i primi primi. Complimenti. Si sono sposati sul Lago Maggiore a Pallanza, ricreando le atmosfere dei tempi in cui Humphrey Bogart amava Ingrid Bergman in Casablanca. Mentre l'Italia usciva dalla seconda guerra mondiale e diventava una repubblica. Il bel paese tifava per coppi e si scandalizzava per la tresca del campione con la dama bianca. La scelta deriva dalla nostra scelta di vita principalmente, che è questa grandissima passione che abbiamo per il design, la moda, la musica degli anni 30, degli anni 40. Quindi non è una cosa fatta per l'occasione, la serata fatta in un certo modo. No, noi siamo così giornalmente. Già, perché il loro è più che un hobby, è uno stile di vita. Guardate la loro casa, sembra il set di un film. Del loro sogno Ombretta e Mauro ne hanno fatto realtà.